Chi non riesce a votare? Onorevole Bonomo. Ok? La votazione è chiusa. Presenti 436, votanti 435, astenuto 1, maggioranza 218, favori 435, contrai nessuno la Camera approva. Passiamo agli ordini del giorno. Se nessuno chiede a intervenire per usare gli ordini del giorno, invito il rappresentante del Governo ad esprimere il parere sul numero 1 Marzano. Il parere è favorevole. Grazie. Presumo che l'onorevole Marzano non intenda porla ai voti essendo favorevole. E quindi le dichiarazioni di voto finale e le votazioni finali del provvedimento in esame avranno luogo al termine dello svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata a partire dalle ore 16 e 15. Secondo le intese intercorsi tra i gruppi, sospendiamo a questo punto la seduta che riprenderà alle ore 15 per lo svolgimento dell'interrogazione e risposta immediata. La seduta è sospesa. Grazie. Grazie.